Buongiorno a tutti lettori di Commodities Trading, breve appuntamento video datato venerdì 5 maggio 2017 dove andremo ad esaminare il report sul mercato del lavoro degli Stati Uniti, quindi il cosiddetto employment report e a seguire andremo a osservare la reazione del metallo giallo ai dati diffusi negli States dal Dipartimento del Lavoro. Prima di partire vi ricordo il corso in opzioni su Commodities, corso che sarà tenuto da Giancarlo Dallaglio a Milano nelle giornate dell'11 e 12 giugno 2017, un appuntamento sicuramente da non mancare per voi che volete divenire realmente profittevoli nel trading sulle materie prime. A questo proposito, in caso di domande o perplessità, vi invito a contattare la nostra redazione dove il personale preposto sarà in grado di fornirvi tutte le risposte riguardanti le nostre attività. Partiamo quindi con il succo, con l'argomento principale del nostro nuovo appuntamento e quindi parliamo di employment report e parliamo di non-faping roles nella specifica, nel dettaglio andremo ad esaminare, come detto in precedenza, la reazione dei prezzi dell'oro dopo la pubblicazione dei dati. Dati che ci mostrano un aumento, una variazione a 211.000 unità nella variazione dei non-faping roles, valore che si pone nella parte alta della forchetta previsionale che variava tra 150.000 e 225.000 unità e superiore anche al consensus di mercato che era per una variazione di 185.000 unità. In calo il tasso di disoccupazione al 4,4% al di sotto del consensus range che oscillava tra il 4,5% e il 4,6% e dal di sotto anche delle attese medie di mercato che erano per un valore finale del 4,6%. In dieve calo il tasso di partecipazione al 62,9% contro il 63% della rilevazione precedente e in dieve salita allo 0,3% il salario orario medio su base mensile contro un range previsionale che oscillava tra lo 0,2 e il 0,4% contro un'attesa di mercato in linea, quindi sostanzialmente che si attestava lo 0,3%. Tra i grafici che proponiamo, questi di fonte e conodei che con questo in basso a sinistra che ritengo che sia il più indicativo della situazione nel suo complesso, abbiamo con la linea dorata la variazione dei non far pay rolls e con la linea blu la variazione del tasso di disoccupazione il tasso di disoccupazione che possiamo vedere medio singolarmente in questo grafico in alto a destra, questo diciamo con gli histogrammi blu e vediamo come il trend effettivamente sia pressoché all'insegna della costante discesa. In basso a destra, per terminare, abbiamo le percentuali di variazione, queste viola a livello annuale del non far pay rolls, mentre invece su base mensile lo stesso dato proposto tramite le nostre colonie, i nostri histogrammi, questo è per quanto riguarda il mercato del lavoro. Vediamo quindi come abbiamo detto in precedenza come è reagito il metallo giallo, non si vedono movimenti particolari, attualmente il contratto giugno 2017 si attesta quota 1.228,3 dollari per oncia. Esaminando il contratto nel dettaglio possiamo vedere come le quotazioni nella sessione del 4 di maggio abbiano infranto a ribasso il canale rialzista che inglobava i prezzi e si attestino ai livelli appena descritti. Non mi dilungherò tanto nell'analisi grafica in quanto è stata proposta in giornata un'ottima analisi da parte di Armando Madeo, il cui link vi inserirò nella descrizione di questo video e vi invito effettivamente ad andare a osservare quanto è scritto perché tratta l'argomento in modo veramente esauriente. Altri livelli che possono interessarci è il movimento occorso dopo la rottura della media mobile a 200 giorni, quindi vediamo questo intensificarsi dell'azione ribassista che lascia spazio praticamente a una prima valutazione di quello che potrebbe essere un livello di resistenza, ossia la media mobile a 200 giorni in caso di un pullback delle quotazioni. Pullback che dovrebbe tra le altre cose andare a riportare le quotazioni nel canale rialzista. Attenzione a un possibile pullback, quindi un movimento di tipo discesa, risaliamo fino a testare la parte inferiore del canale rialzista citato in precedenza e da qui di nuovo questa è un'eventualità non da escludere. Obiettivi in termini di un nuovo ritorno dell'evento? Sicuramente questo nella fascia compresa tra 1200 e 1196, dollari per oncio, prima fascia di supporto, seconda fascia di supporto, appena più in basso, tra 1190.5 circa e 1186 dollari per oncio, questo è un po' il quadro generale a breve termine. Chiudiamo qui questo appuntamento, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e buon trading a tutti!